Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su mi piace e iscriviti al nostro canale. L'intervista rilasciata dalla celebre soprano Katia Ricciarelli è stata davvero emozionante e sincera, rivelando dettagli drammatici della sua vita, fatta di alti e bassi, nonostante il grande successo che ha ottenuto nel panorama televisivo Rai. L'ex moglie di Pippo Baudo, una delle figure più importanti nel mondo dello spettacolo, ha mostrato un lato del suo privato che molti potrebbero non conoscere. Durante un'intensa conversazione con Francesca Fagnani nel programma Belve, Katia Ricciarelli ha fatto una confessione sorprendente riguardante il suo passato legato al gioco d'azzardo. Pur negando di essere una ludopatica, l'artista ha ammesso che in passato amava cimentarsi in questo hobby. Riesco benissimo a vivere senza giocare d'azzardo, ha affermato la Ricciarelli, e riesco a stare bene anche se gli altri non mi vedono, io vado per la mia strada. La cantante ha raccontato un episodio avvenuto durante il periodo in cui viveva a Monte Carlo, noto per i suoi lussuosi casinò, dove ha vinto una somma considerevole grazie a una scala reale, e successivamente altri 150.000 euro alle swap machine. Tuttavia, questa vincita l'ha portata a prendersi una pausa dal lavoro di due mesi. Parlando del suo matrimonio con Pippo Baudo, con cui è stata sposata per 18 anni dal 1986 al 2004, Katia ha sempre definito Baudo come l'uomo della sua vita nonostante la loro separazione. La loro storia d'amore ha avuto momenti di turbolenza, e la Ricciarelli ha rivelato di essere rimasta incinta prima del matrimonio, ma la coppia, allora solo fidanzata, decise di abortire. Pensavo che fosse troppo presto per avere un bambino, ha confessato Katia Ricciarelli, eravamo fidanzatini ed in nascosto. La soprano ha condiviso le sue riflessioni personali su questa decisione, affermando che non attribuisce colpe né a se stessa né a Baudo, ma la considera come qualcosa decisa dal destino. Tuttavia, ha ammesso di pensare spesso al figlio che non ha mai avuto, dicendo, a volte penso a cos'è che mi manca, e mi rispondo, il figlio che non ho mai avuto. Ho abortito e se mi chiedo il perché, allora mi rispondo che sarà stata la volontà di Dio e che forse è giusto così. Katia Ricciarelli ha concluso riflettendo sulle relazioni e su come a volte l'ostinazione possa rovinare una coppia, ma si rende conto di ciò soltanto molto tempo dopo. Questa intervista ha davvero messo in luce un lato intimo e profondo della celebre soprano, mostrando che dietro il successo ci sono stati momenti difficili e scelte complesse. Restiamo in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro a questa iconica figura dello spettacolo italiano. Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità.